Buongiorno ragazzi, stanotte abbiamo dormito nella casa del mago Alambicco come vedete è tutto arredato in finiti storie diciamo questo arredamento fiebesco, come vedete, con le pozioni anche la cucina, non so perché, guardate tutte le rifiniture mentre la camera, tu 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 mentre la camera come vedete, il mago Alambicco, qui c'è una breve descrizione e questa è la stanza dove abbiamo dormito questo piccolo angolo di paradiso si trova nel centro di Pistoia non male diciamo l'ambientazione è fantasy ed ha quel tocco in più che ti fa dormire meglio la notte ed è così, dai adesso si ciao a tutti grazie a tutti